Si sblocca finalmente l'iter della nuova piazza di Rossano Veneto. Il percorso iniziato qualche anno fa era fermo con le quattro frecce a causa di un contenzioso fra comune e parrocchia. Ma nell'escursione il Tribunale di Vicenza ha inibito alla parrocchia della Beata Vergine Maria l'escursione di una polizza fideiussoria per una montare superiore a un milione e trecentomila euro. Il giudice, fanno sapere dal comune, ha in sostanza riconosciuto che le pretese economiche avanzate dalla parrocchia erano fuori misura. Come amministrazione siamo estremamente soddisfatti di quanto deciso dal giudice. Fino all'inizio ci sembrava un po' assurdo la richiesta di un'escursione totale a fronte di uno stato di avanzamento lavori all'80-90%. Siamo contenti che la giudice poi ci abbia dato ragione e abbia riconosciuto che effettivamente la richiesta era assolutamente fuori parametro. Adesso si ricomincia a correre con i cantieri. Stiamo facendo tutti i vari affidamenti, i vari incarichi per i lavori e io credo che già nelle prossime settimane i nostri cittadini vedranno finalmente degli operai operare all'interno delle strutture. Per quanto riguarda invece i lavori della piazza, quelli hanno sempre avuto lo svolgimento regolare. L'ex sindaco Morena Martini aveva seguito tutta la trafila dell'operazione collaborando a stretto contatto con il parroco. Ecco la sua reazione. Mi viene un po' da sorridere perché il dialogo non è mai mancato con Don Paolo, anzi in effetti fino a tre mesi dalle elezioni ci trovavamo di sovente, parlavamo naturalmente delle cose di Rossano, dei lavori, mi prendeva anche in giro. C'era un bellissimo rapporto e non ha mai fatto capire insomma che la convenzione firmata nel 2019, passata in consiglio comunale nel 2019, non andasse più bene. Poi improvvisamente da metà giugno diciamo le cose sono cambiate. Dall'amministrazione arriva comunque una mano tesa alla parrocchia. A mio parere il Comune ha agito nella massima buona fede e vuole continuare a farlo. Il sindaco attuale ha abbracciato naturalmente questa linea e la sta portando avanti con molta determinazione. Ora cerchiamo di lavorare insieme per i rossanesi.